così da un'analisi superficiale ma secondo te sto male con tutti quanti fuori dai maroni secondo te sto male? non c'è nessuno qui per un'ora non c'è nessuno sono andate al saggio a prepararlo buio vuoto è un premio e poi se te va nessuno ti dirà niente nel caso che non vedo male torno in diagonale c'è il gran premio ne vedo una parte viva la vita